Morì mentre viaggiava in pulmana, trafitto da una sbarra. Adesso l'autista del furgone, che perse il palo, è stato condannato ad un anno e quattro mesi di carcere, mentre l'imprenditore, proprietario del furgone, risultato poi non a norma, è stato assolto perché il fatto non sussiste. Così si è concluso in primo grado il processo per la morte di Luigi Ferri. La tragedia risale alla vigilia di Natale del 2015. La vittima, un'ottantenne, viaggiava su un pullman della Lazzi, quando a Traiana il mezzo incrociò un furgone che viaggiava in senso opposto e al quale improvvisamente si aprì il portellone. L'asta metallica dello sportello laterale del furgone schizzò così via violentemente, furò il parabrezza del pullman e trapassò un seggiolino per poi colpire fatalmente l'uomo che si trovava in terza fila. L'ottantenne morì sul colpo. Per la sua morte erano finiti a processo l'autista del furgone, un aretino cinquantenne e illegale rappresentante dell'impresa Umbra specializzata nei trasporti. L'accusa per entrambi era quella di omicidio colposo. Adesso il giudice Giulia Soldini ha di fatto accolto la tesi dell'accusa. Il cinquantenne, infatti, vedendo il mezzo non in regola, avrebbe dovuto evitare di utilizzarlo. Il legale dell'autista ha comunque già annunciato che ricorrerà in appello non appena saranno depositate le motivazioni della decisione.